Ok guys, vi siete mai chiesti come fanno la pizza in India? Immagino di no. Visto e considerato che vi ho messo la pulce nell'orecchio, oggi super reaction del nazionale che guarda esattamente tutti i passaggi su come non fare una pizza. Ma soprattutto, quello che state per andare a vedere, lo mangereste? Fatemi sapere qua sotto nei commenti ragazzuoli e fatemi sapere se volete reaction. Così, al limite della blasfemia culinaria. E lui è stato il mio mentore, grazie a lui che ho iniziato a cucinare ragazzi. È stato colui che mi ha indirizzato sulla via della cucina esotica, zio porco. Peperoni pizza recipe! Vedo già delle cose che non ci dovrebbero essere. Garlic powder, belaglio in polvere, peperoncino zio porco indonesiano essiccato al sole, basilico, quello fresco proprio, cazzo, guarda quanto è fresco questo basilico ragazzi. Cos'è questo ragazzi? Tantissimo tra l'altro. Salto! Salto! Warm water, che cazzo è warm water raga? Acqua calda. Che cazzo è? Che cazzo è? Grazie, visto? Zio porco, sembra, sembra pellet, pellet in miniatura. Olive oil. Minchia. Olio, olio, olio del motore della Passat di mio zio con 350.000 chilometri. Wow, che bello impasto. Già che sta venendo bene l'impasto raga. Ci sono degli, ci sono degli intrusi qua ragazzi. Andiamo se li becco. Belle mosche. Guarda com'è, com'è bello, com'è amalgamato bene l'impasto. Nessuna pizza è stata maltrattata in questo video. Porco diaz, sembra, sembra, sembra il suolo lunare il cazzo. Ma come cazzo l'ha fatto sull'impasto? Ma che cazzo di olio? È trasparente, porco due. Ma non è di oliva questo olio. Questo qua è olio esausto, si vede. Zio porco. Sembra, sembra, sembra piscio, sembra. Perché praticamente quando fai l'impasto non dovrebbe essere bello... Cioè... Dovrebbe essere liscio, zio porco. Come farà la salsa di pomodoro il nonno indiano? Aglio, minchia, pioggia, sicuro. Aglio, cipolla, zio, cane. Rapporto pomodoro, aglio, cipolla, 1 a 1, sicuro. Minchia, ha messo prima il pomodoro. Porco due, non l'avrei cazzo mai detto, raga. Non l'avrei cazzo mai detto. Mi aspettavo... Mi aspettavo un chilo di aglio. Già, è partito bene però, è partito molto bene. Molto bene è partito. Salto, salto. Dove salta, maestro? Gallic Pounder. All'aglio in polvere. Zio cane, no. Che eresia, sono abituato a vederlo proprio. Porco di me. Ma che cazzo è? Nesquik, raga. Ma in Nesquik, zio Fausto. Ma che cazzo è? Perché ha messo in polvere? Non me l'aspettavo mai sta roba, giuro. Non me l'aspettavo mai. Sono abituato a vederlo tagliare, minchia, 18,86 milioni di chili di cipolle aglio proprio a profusione. Me lo mette in polvere. Se trovo sta marca, l'Esselunga, Basil, Keia. Minchia, la volta buona. Questo qua lo uso come profumatore per ambienti. Ma che roba? Ha messo, tutto in polvere ha messo. Tutto in polvere, figa. Tutto in polvere essiccato, Cristo Dio. Ho lì, ho lì, ho lì della pasta di mio zio, 357 mila chilometri. Vai, spalma bene. Questo qua, il cornmeal è la farina di mais. Mica, ha fatto il test come per dire, sì, ci siamo. Zio porco, se fai sta roba qua che bucherelli, tecnicamente dovrebbe rientrare il buco. Zio porco sembra il DAS, Cristo Dio, ma che cazzo di impasto è? Cioè, lo fa pure venire come per dire. Guarda che roba. Zio cane, se fai una roba del genere non dovrebbe rimanere il buco, porco due. Che cazzo ha fatto, porco di pongo? Ho visto la ricetta di Giovanni Mucciaccia, zio cane. Minchia, idratazione, impasto, due per... Minchia, guarda per stenderelo, porco due. Però vabbè, è facile stenderelo perché effettivamente è pongo, regà. Ketchup. Come ketchup? Porco Dias, tomato Zeus, ha fatto la salsa. Perché l'ha chiamato ketchup a cazzo così? Ma perché l'ha chiamato ketchup? Ma zio porco, così... D'amblè! Ketchup! Ketchup! Ma perché? Zio porco ha rovinato la ricetta, ha fatto... Ma perché ha fatto sta coa? Ha rovinato tutto, ha rovinato tutto, zio porco. Poi mi piace quando fanno i bugarelli sotto tipo torta, capito? Sto facendo l'Apple Pie, zio cane. Porco due, ma era il colore, regà. Minchia! Sembra sangue. Sembra marmellata di fragole, sembra. Minchia, mozzarella cheese, figa che roba. Minchia! Che cazzo? Ah, il peperoncino. Ma la mozzarella, zio cane, la fa tessiccare insieme all'origano, porco due. E completamente senza... Senza gli... Secca come le mie palle, sta mozzarella. Ma il peperonino. Che cazzo è? Che cazzo sono quei? Che cazzo è? Che cazzo è? Ma che cazzo è? Porco zio, sembrano le mini fettine di ball roll, sembrano. Questo dovrebbe essere salame, ragazzi. Sembra il dado star, porco due. Però a circolare, cazzo, tagliato a fette. Ma che cazzo è? Zio, sembrano le pesche e noci ammuffite. Ma che roba, porco due. Però un genio, per cucinare l'ha messo una lastra di sale sotto. Ma credo per non farla attaccare, zio, porco. L'ha messo una lastra di sale sotto. Perché la cucinano tipo... Cioè, tipo al forno, zio, caro. Perché la cucinano come se fosse lo spezzatino, porco due. Gli ha messo sopra un pezzo di meteorite per tenerlo fermo. Perfetta, raga. Voglio vedere come la tolgono. Mica, come proprio la tecnica frittata. Mica, raga, è un tappeto. È un tappeto. Quell'impasto era talmente... Era talmente zio porco... Pum. Che... Non la... Non la puoi sventolare, sta pizza, capito? Mica, va, cottura perfetta, zio porco. Sembra una crostata, cazzo. Qualche roba. Adesso fa le fette così. Dai, dite la verità, raga. Sincera verità. Ve la mangereste? Io non me la mangerei. Io la mangerei, raga. Vi dico la verità. Assaggerei. Però non scrocchia per niente. Ma no, come Italian Pizza. Porco Dio. Ha fatto un macello con questo video, raga. Ma ha fatto un casino, zio porco. Ha fatto tomato sauce e tutto bene. Ha fatto più o meno una salsa. Beh, ci ha messo tutto in polvere. Poi, porco Dio, l'ha messo sulla pizza. Fa ketchup. Ma adesso... Questo qua tira fuori... Italian Pizza. Ha fatto un casino, ha fatto questo qua, raga. Giuro, ha fatto un casino. Non è, non è, non è zaccata una.